Sono molto inadeguato, anche se onorato, di dare inizio a questo dibattito che è così di alto livello e la riflessione di questo panel, che è quella sul rapporto tra l'identità cultura in Italia, credo che vada adeguatamente inquadrata, inserendo l'identità culturale italiana all'interno di un insieme più grande, che è quello dell'identità occidentale, cioè dell'identità di civiltà. E la civiltà, come ha detto Huntington, è la risposta più ampia, più comprensiva possibile alla domanda chi siamo, cioè alla domanda sull'identità, sull'identità individuale come sull'identità collettiva. Le civiltà hanno in comune una rappresentazione del mondo, hanno in comune un cosmos che le unisce, all'interno del quale gli individui e le cellule comunitarie si inseriscono. Quello che noi chiamiamo Occidente si potrebbe definire come lo sviluppo della civiltà euro-mediterranea, quello che poi si è sviluppato al di qua e al di là dell'Oceano Atlantico e che ha al suo interno la sedimentazione della civiltà greca, di quella romana, di quella semitica, con particolare riferimento a quella ebraica e il tutto alla luce del reagente del cristianesimo. Ed è quella che nella costruzione dell'Europa, del Medioevo e dell'Età moderna si è chiamata cristianità. questo è importante perché è al suo interno che l'Italia trova senso, come perno fondamentale dello sviluppo di questa civiltà cristiana. E qual è il cosmos che condivide questa civiltà? è una rappresentazione dell'uomo come sacro. Come sacro perché creato a immagine e somiglianza di Dio e quindi come depositario di un valore assoluto che nessun tipo di potere, né economico, né sociale, né politico, può conculcare. Ecco il nucleo della civiltà occidentale. Questo vale la pena di richiamarlo perché i processi di modernizzazione che si sono sviluppati a partire appunto dall'età che chiamiamo moderna fino a oggi, gli svariati processi di modernizzazione hanno prodotto molte forme di omologazione che hanno diserbato, hanno desertificato questa radice culturale così profonda che è quella dell'umanesimo occidentale. Omologazione dovuta alle ideologie, a partire dalla rivoluzione francese e con tutto quello che ne è seguito, omologazione dovuta alla industrializzazione, alla nascita delle società dei consumi, omologazione dovuta alle dinamiche dello Stato moderno che hanno portato a forme di gerarchizzazione, di burocratizzazione, di disumanizzazione che sono, che cozzano con quello che è l'umanesimo cristiano, nucleo fondante della civiltà occidentale. Il nazionalismo, l'imperialismo sono tutta una serie di forme di omologazione che hanno appunto disseccato questa radice. E che si sono poi propagate anche oltre i confini dell'Occidente, perché nel momento in cui la società europea e poi occidentale, dal punto di vista economico, politico, militare, di potenza, è stata egemone su gran parte del globo, ha esportato queste forme di omologazione, queste forme di disseccamento della linfa delle radici di civiltà. Il contagio si è propagato anche altrua. Paradossalmente, quello che noi chiamiamo età della globalizzazione, cioè il mondo del post 1989, il mondo successivo alla chiusura delle grandi dispute ideologiche dell'8-900, riguardandolo oggi, a più di un trentennio di distanza, si appare invece come un periodo nel quale si sono sviluppate delle potenti forze di reazione all'omologazione prodotta dai processi di modernizzazione precedentemente. Cioè, le civiltà hanno cominciato a sviluppare degli anticorpi e hanno cominciato a ricongiungersi con le loro radici etico-religiose di concezione del mondo, di rappresentazione del mondo. Questo però è accaduto prevalentemente nelle società non occidentali. È accaduto in parte anche in Occidente. Ci sono fenomeni di rinascita religiosa, di rinascita comunitaria in alcuni luoghi dell'Occidente, ma complessivamente noi vediamo che fuori dall'Occidente, fuori da ciò che noi chiamiamo Occidente, questa forza di ricongiunzione, di riconnessione alle radici identitarie è avvenuta in maniera più potente. Lo vediamo nella civiltà indiana, con la ricongiunzione tra la realtà sociopolitica della democrazia che avevano ereditato con l'indipendenza della democrazia del federalismo con l'induismo. Lo vediamo in Cina, con una ricongiunzione, in modo che ci può piacere o meno, all'interno della società comunque governata da una dittatura, da un governo a partito unico, con l'etica confuciana. Lo vediamo in Russia, con una forma di riproposizione dell'eredità imperiale zarista ortodossa, della civiltà ortodossa. Lo vediamo nel mondo islamico, in moltissime forme, una delle quali, spiacevole, bruttissima per noi, ovviamente non solo per noi, ma anche per chi la subisce, sul posto è l'integralismo o il fondamentalismo, ma se guardiamo anche per esempio a ciò che è successo in Turchia negli ultimi 20-30 anni, ci rendiamo conto come la ricongiunzione con l'identità di civiltà islamica e turca all'interno del mondo islamico è stata potente. E si potrebbe continuare. Il problema è che dov'è che la consapevolezza della necessità di ricongiungersi alle radici di civiltà è meno sviluppata, proprio in Occidente, dove le classi dirigenti, le elite economiche, finanziarie, intellettuali, politiche, della comunicazione, mediatiche, sono quasi compattamente accomunate da una concezione del mondo, ipersecolarista, quindi di rifiuto della tradizione, rifiuto del passato, rifiuto delle radici religiose dell'Occidente, la civiltà che viene dal cristianesimo, che è formata dalla concezione cristiana del mondo, che nelle sue elite rifiuta, rimuove le radici cristiane. è portatrice di una visione del mondo iperrelativista, ipersoggettivista, che è quella che vediamo alle origini della cultura, appunto, che noi chiamiamo uochismo, è scientista, è tecnocratica, e quindi iperideologizzata e ipertecnicista. E sta rimuovendo sempre più scientificamente e chirurgicamente le sue radici identitarie. E quindi da qui che dobbiamo partire per ragionare sul legame tra identità e cultura in Italia. Innanzitutto dal fatto che per fare una opera di promozione della cultura italiana in Italia e nel mondo, dobbiamo rimuovere per quanto possibile, senza essere a nostra volta giacobini, al contrario, senza essere decostruttori, al contrario, dobbiamo cercare di rimuovere le incrostazioni, le superfettazioni che soffocano l'identità culturale italiana. Innanzitutto l'identità culturale italiana non comincia con la nascita dello Stato nazionale, ma è molto più profonda. È inconcepibile l'Italia senza l'eredità cristiana, senza la cristianità medievale, senza la funzione di nucleo spirituale. È inconcepibile l'identità italiana senza la policentricità, il policentrismo. La grande ricchezza dell'identità nazionale italiana è il suo essere un mosaico, è la sua biodiversità interna, che le forme in cui si è attuata l'unificazione nazionale hanno in parte soffocato, perché l'unificazione nazionale, che ovviamente non è che stiamo qui a contestare, non avrebbe senso, è stata una forma di evoluzione che aveva a che fare con un complesso di sviluppi della storia del continente, non solo, ma che sappiamo è avvenuta attraverso un modello che è un modello centralistico francese-napoleonico, basato sulle province, sui prefetti, sui codici. È una forma gerarchia che ha negato, che ha rinnegato per un pregiudizio ideologico che deriva proprio da una matrice francese, ha rinnegato quella che era la natura e la storia dell'Italia precedente. Alla frammentazione, senza all'essere il volgo disperso di cui parlava Manzoni, si è invece succeduta quella aspirazione di stato pedagogico burocratico, quella aspirazione a fare gli italiani, che brutta formula, che cosa orribile, non bisogna farli gli italiani, gli italiani esistono per fortuna e hanno una lunghissima storia e non deve arrivare qui l'ultimo arrivato a dire come devono essere, a porre in atto una visione pedagogistica del potere. Queste sono le superfetazioni che bisogna cercare di scrostare. Italia come radici profonde, come radici cristiane, come qualcosa che è irriducibile ad una omologazione. E quindi la cultura deve ripartire dai territori, deve ripartire dalle comunità, deve ripartire dall'iniziativa spontanea delle comunità, se vuole essere viva. E deve essere, per quanto possibile, de-statalizzata. De-statalizzata. Lo statalismo è il peggior nemico della cultura, è il peggior nemico dell'educazione, è il peggior nemico della formazione universitaria, è il peggior nemico dell'informazione e dei media. De-statalizzare. Affidare al principio di sussidiarietà tutte le attività che hanno a che fare con la formazione e con la cultura. So che dire queste cose in Italia nel 2023 ancora può apparire come utopico, può apparire come qualcosa che è al di fuori della realtà, in un paese che si è talmente abituato alla gerarchia, alla burocrazia, al burocratismo, allo statalismo, che quasi ci riesce impossibile pensare diversamente. Ma il diversamente esiste, solo che noi spesso non lo vediamo. Esiste l'iniziativa dei territori, esiste l'iniziativa delle comunità, come esiste nella economia. La piccola e media impresa fondata sulla conoscenza e sulla frequentazione dei territori è una realtà che ha consentito all'economia e alla società italiana di resistere e anche, non voglio usare l'orribile termine, resilienza, di essere resistente e reattiva che è ben altro, anche in momenti drammatici di crisi economica. Così è per la cultura, solo che non si vedono questi sforzi perché sono soffocati dalla politicizzazione, dall'ideologizzazione, dalla burocratizzazione, dalla clientelizzazione della cultura. E questo è l'aspetto su cui secondo me dobbiamo più riflettere. La valorizzazione della varietà, della diversità del territorio. E naturalmente questo implica, e qui chiudo, anche una trasformazione del modo di vedere le istituzioni. Un ricominciare a pensare allo Stato in forma sussidiaria in maniera seria. In Luigi Einaudi l'avversione per il diploma di Stato, per l'esame di Stato, per l'educazione di Stato, che la scuola di Stato che erroneamente viene chiamata pubblica, la scuola di Stato non è pubblica, è privata, perché viene privatizzata dai partiti, è stata privatizzata dalle ideologie, è stata strumentalizzata da cose che con l'educazione e con la formazione ci hanno poco a che vedere. E dicevo in Einaudi l'avversione alla scuola di Stato è anche avversione ai prefetti, al modello napoleonico delle province. Ripartire da un discorso sulle comunità, sull'associazione dal basso, la formazione dei consorsi di comuni, delle comunità montane, all'interno di regioni che non siano le regioni che sono oggi, che sono deboli e per essere deboli sono asservite a una logica statalista sia in termini nazionali sia in termini sovranazionali. Sono al servizio e in attesa dei sussidi e degli incentivi e degli foraggiamenti che vengono dal superstato della UE. Invece per sviluppare delle forze reattive, che sono anche forze di civiltà reattive, c'è bisogno dell'associazione dal basso e c'è bisogno di regioni ampie, che non siano quelle attuali, che siano più grandi, più forti, che siano almeno la metà di quelle che sono attuali e siano capaci di effettivo autogoverno. Anche all'interno di questo tipo di realtà istituzionale ripensata, una cultura libera, una cultura che rispecchia effettivamente l'identità di lungo periodo d'Italia è possibile e secondo me è doverosa per assicurare un futuro al nostro Paese. Grazie.